Siamo qui all'Isola del Cinema, Isola Tiberina, a Roma, con Simona Bertocchi, la nostra scrittrice appena arrivata da Montignoso, in provincia di Massa, che questa sera presenta questo libro, Nel nome del figlio, ossia la storia della Marchesa Ricciarda Malaspina Cibo, Signora di Massa e Marchesa di Carrara. Simona, ci racconti qualcosa, brevemente un po' la storia che viene narrata in questo libro? Intanto siamo nel pieno rinascimento, Ricciarda Malaspina, poi divenuta Cibo, è stato un personaggio spietato, crudele, ma anche rivoluzionario. È una donna, siamo nel pieno rinascimento, come ho detto prima, e questa donna è riuscita a governare in modo indiscusso un territorio molto importante, ambito dai medici, ambito da Genova e quindi dai dori, ambito dalla Francia e dalla Spagna, siamo nel periodo della guerra franco-spagnola, e nonostante questo è riuscita da sola, spodestando il potere del marito Cibo, mettendo in disparte il cardinale Cibo Malaspina, e andando in combutta con un imperatore a governare con i suoi metodi, diciamo, non sempre comunque leciti. Tu hai usato questo stratagemma perché nella storia reale di questa donna vissuta realmente appunto nel rinascimento, hai usato lo stratagemma di far raccontare la sua storia alla sua dama di compagnia, tale Beatrice Pardi, che è un po' l'antagonista di Ricciarda, e questa è stata l'invenzione, l'ha trovata. So anche che per scrivere questo libro hai passato molto tempo negli archivi di Stato, quanto tempo è durata la stesura e la ricerca prima di dare poi alle stampe nel nome del figlio? Due anni e mezzo, due anni e mezzo di archivi in cui ho frequentato l'archivio di Stato di Massa, quello di Modena, quello di Firenze, seguita dal direttore dell'archivio di Stato di Massa, la cosa poi difficile è stata romanzarla perché non volevo assolutamente farne un saggio storico e quindi c'è poi la parte romanzata, quindi il diario di Beatrice che è la dama di compagnia di Ricciarda e la storia di Beatrice che corre in parallelo con quella della marchesa Ricciarda Malaspina. Quindi la finzione sposa la storia, ma la storia è assolutamente quella e quindi i fatti storici sono stati un frutto di una forte documentazione. Anche in questo libro, nel nome del figlio, così come in Lola Suarez, il tuo libro precedente, che è una storia di Desaparesinos ambientata in Argentina, libro peraltro giunto alla seconda edizione e anche nei colori di Venere, le protagoniste sono sempre donne, ma sono donne passionali, ribelli, coraggiose, indomite, che ne combinano un po' di tutti i colori e sempre pronte a tutto. Questa è una tua scelta o un'imprescindibile esigenza? Magari è oppure la voglia di leggere, cioè di scrivere quello che vorresti leggere? Entrambe le cose e quindi ovviamente ho cercato delle storie sempre molto verosimili e dei personaggi in qualche modo realmente esistiti, perché Lola Suarez, anche se è un personaggio fittizio, è la figlia dell'Argentina, potrebbe essere una delle tante figlie dell'Argentina che hanno vissuto il dramma dei Desaparesinos. Ricciarda Malaspina è realmente esistita, quindi dei personaggi forti, ecco, persone forti, complesse e se poi sono donne ancora meglio, perché sono proprio nella mia penna, quindi entrambe le cose. Un'altra cosa, un giornalista parlando di questo tuo libro ha scritto La Bertocchi toglie dall'oblio un personaggio come la Marchesa di Massa. Effettivamente Ricciarda Malaspina è un personaggio sconosciuto e più. Come ti è saltato in mente di scrivere, di recuperare questo personaggio storico, peraltro appunto realmente esistito e vissuto, così però che conoscono veramente in pochi? Proprio perché lo conoscono in pochi, ma i massesi stessi conoscono molto bene il figlio Alberico, che è stato il principe di Massa, colui che ha portato Massa poi dal Marchesato al Ducato, ma non conoscono la storia precedente, quindi il grande personaggio che c'è stato, sua madre, poco amata dai massesi, che ha chiuso una dinastia, a quello dei Malaspina, per aprire poi la dinastia dei Cibo Malaspina. In realtà non era Alberico che avrebbe dovuto governare dopo Ricciarda, bensì il figlio Giulio. Così non è andata perché nel nome del figlio Ricciarda ha vissuto una storia ben più tormentata e ha fatto in modo che Giulio non governasse, ma che fosse Alberico. Il figlio, forse legittimo, non si sa a governare. Tre aggettivi per definire nel nome del figlio? Allora, non per falsa umiltà, però rivoluzionario, perché è un modo di far conoscere la storia unendo una sana dose di finzione, ma mantenendosi fedeli ai fatti realmente conosciuti. Quindi è rivoluzionario in questo senso. È rivoluzionario anche perché comunque la protagonista stessa lo è stato. Siamo nel 1520 e una donna ha il potere e che potere aveva, insomma, lo era. Io spero che sia anche un libro che possa avvicinare i giovani alla lettura, quindi facilmente leggibile, con comunque uno stile amabile. Sarà il libro di lettura per molti alunni di alcune scuole di massa, quindi che in questo momento magari non mi ameranno particolarmente. E quindi, appunto, facilmente leggibile, amabile questo potrebbe essere. E un altro aggettivo, comunque, non te lo saprei dire, perché comunque la storia è molto difficile da fare amare, per cui la mia è stata una sfida, quindi anche questo, mettiamocelo dentro, è stata una sfida riuscire a portare la storia nella narrativa e nella letteratura da spiaggia, perché tanti sono che lo stanno leggendo in spiaggia. Bene, allora, Simona Bertocchi, nel nome del figlio, Giovane Holden Editore. Grazie a tutti.